La portezza è valida, Volta non è portata benissimo, è portata per il povero, adesso Volta si mette in moto, Volta si mette in moto, Volta davanti, Porta davanti, Porta, Porta si vince, 9.64, un tempo strato asperico, vado a 17 gradi, è quasi impossibile, 9.64. Eccezionale, eccezionale, ha voluto vincere, ha ritocato il secolo, 9.63, fantastico, con questo freddo, paghiamo chiaro, è freddo. E' vero, c'è un metro e mezzo dentro a favore, seconda play.